... ... ... ... ... L'idea di questo cammino, di cui vi dicevo, che abbiamo fatto in questo momento il senso orizzontale, il senso orizzontale, che quando la giovane che affestando c'è la sua casa c'è il primo posto, però con un andamento dal basso verso l'alto. Se ne seguite, abbiamo gli apostoli, quindi la presenza di quattro evangelisti, che ci hanno tracciato la vita di Gesù, abbiamo la fele alla vasta sinistra, la carità alla sua destra, e poi la marcia di tutta la verità, che ci conduce dalla parte di Gesù e viene rappresentato. La terapia è un'ovale, fatta un'ergenza, un'ambiente e un'altra, che ci ricorda non l'argomento che dice, ma la colore nostile che ci mostra la passione di Dio, ma se saliamo dal salato, arriviamo a questa nuova idea. La terapia è una nuova idea, quindi si raccontra attraverso un'onore classicità, quella che è...